Un pezzo che mi seguiva. Un tipo strano. Che brutto ceffo. Sai cosa? Comportati come sempre. Se si fa vivo, lo tengo d'occhio. Torniamo qui e lo carichiamo a bordo. Ah, va bene. Ah, va bene. Ah, va bene. Ah, va bene. Agnes, attenta. Una banda ti sta addosso. Ah, niente del genere. È solamente un tizio che mi sta seguendo. Sei sicura? Sicura come loro. Eccola là. La serve. Ti nascondi da qualcuno? Guarda un po' dove vai. Scusate. Signora, razza di biforco. No. Che fa quel tizio, mamma? Dannato, idiota. Ma quella là è di una banda importante. Banda? Ma quale banda? Credo sia nel treno! Saranno quei bastardi nemici di Keylock. Avvisate i tizi sui tetti. La eliminiamo. Eccola! Eccola! È quella col cretino al rimorchio! Eccola! Uccidetela! Chi è lo scemo che la sede? Tu, fermati lì! Adesso sei morta! Eccola! 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 Fermati! Agnes va tutto bene, caro? Certo che sì! Perché lo chiedi? Un'intera banda ti sta cercando! Ma va, è solo un tizio ed è pure incapace No, sono pericolosi, potrebbero tenderti un agguato alla stazione Non dire assurdità Devo arrivare in stazione prima di Agnes No, 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 no Per l'amor del cielo Spero che abbia sofferto Spero che abbia sofferto Si divertirà una lezione così vi passerà Non fatela scappare, attaccate! Inseguitela! Resta sarà la tua ultima battaglia! A posto qui. Ora, pensiamo a quel tizio che seguiva Arnes. Ho passato la notte fuori dal club per gentilità. Ci sono un sacco di ricordi da mille parti. No! Tu chi sei? Nigel, Nigel Bumble. Perché ci seguivi? Io voglio unirmi a voi. Ah, per la miseria, sa anche chi siamo. Va bene, carino. Puoi aiutarmi a ripulire il treno, se non ti dispiace sporcarti. Davvero? Fantastico! Non ve ne pentirete, no.